la spoleto nord c'è in mtb è sempre più vicina tre i percorsi di gara il family percorso corto di 14 chilometri per 250 metri di dislivello aperto anche a famiglie e bambini e il randonè di 200 chilometri su strada in aggiunta tre varianti del percorso tradizionale il classic di 38 chilometri e 900 metri di dislivello l'hard 60 di 62 chilometri e 1390 metri di dislivello il l'hard 80 di 78 chilometri e 1850 metri di dislivello insomma percorsi per tutti i gusti spoleto nord c'è in mtb il primo settembre è alle porte continuate a seguirci grazie a tutti Grazie a tutti.